Il verde pubblico non è curato a dovere, soprattutto nelle borgate. Problemi anche con la deratizzazione e la disinfestazione. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, dice il consigliere comunale Giovan Carmine Mancini. Il decoro urbano lascia a desiderare, dando una brutta immagine di Sernia. Ma l'esponente di Alleanza per il Futuro non intende assistere passivamente a questo spettacolo. Ha infatti deciso di presentare due interrogazioni affinché si ponga rimedio al più presto ai vari problemi segnalati dai cittadini. È evidente che i Sernia è una città che è estremamente poco pulita perché sono segnalazioni ai cittadini, sono video addirittura sui social che i Sernia è piena di ratti e che non è stata fatta la disinfestazione. I nostri bambini sono ancora martoriati dalle zanzare. Una città che continua a non essere pulita, con cassonetti che non vengono puliti, con una raccolta differenziata, indifferenziata, che ancora non funziona. Questo è il dato evidente, chiaro, che balza gli occhi di tutti. Dall'altra parte c'è un verde che da una parte è stato assolutamente abbandonato a se stesse. Parlo della mancata pulizia, soprattutto delle aree inerenti, le strade extraurbane e delle contrade dove è praticamente impossibile passare. Dall'altra è stato oggetto di devastazione da parte dell'assessore albericida, al ramo appunto, che ha distrutto gli alberi più belli e più importanti della nostra città. Mancini ha inoltre annunciato l'intenzione di presentare anche un'altra interrogazione. Nel mirino, tanto per cambiare, la storia infinita delle strisce blu. C'è stato un cortocircuito, voglio essere buono, fra la parte politica e la parte gestionale del comune, sulla quale la ditta, chiaramente, che fa i propri interessi, è intervenuta. E questo è il risultato vergognoso che è sotto gli occhi di tutta la cittadinanza di Sernina, ma di l'intera regione molise. Questo è un dato di fatto incontrovertibile. E i problemi non finiscono più. Il sindaco lo poteva risolvere, ma il sindaco non si doveva trovare in quella condizione. Il problema è che il sindaco, io voglio essere buono con tutti, ma è possibile che non vede, non sente, non parla, non interviene.